Sinceramente è un onore grandissimo. Si deve dare valore, non solo in queste 300 partite, ma per tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui. Alex, in quale partita hai esordito con la maglia della Juve? Chievo. Numero 12, Alex Sandro! Contro chi hai segnato il tuo primo gol? A Udini. Di destro. Quanti gol hai segnato con la Juve? Più o meno di 10? Più. 13, 14, 15, eh 15. Il tuo gol preferito, quello più speciale? Il primo contro la Udini. La tua prima doppietta con la Juve? Parma. Ti ricordi la prima partita di Champions che hai giocato? Sevilla. Nomina 5 città europee in cui hai giocato con la Juve? Madrid, Barcelona, Munich, Monaco, Sevilla. Hai segnato un gol in Champions League. Contro chi? Qua di casa, di testa, Malmo. La prima persona che hai incontrato quando sei arrivato qua? È difficile dire solo un nome. C'è Kedine, come Gigi, come Leo, Barzali anche. Questi erano lì che mi hanno dato il primo abbraccio. Il compagno che è in allenamento ti ha messo più in difficoltà? Quadrato. Sì, fino ad oggi io e Quadrato, quando siamo nelle squadre diverse, sempre esce uno zoppiccando. C'è una partita che vorresti rigiocare? Certamente la finale di Champions, magari per provare a vincerlo. Il compagno con cui hai condiviso di più? Da oggi certamente Danilo. Da 2010 che lo conosco, quindi è difficile trovare uno che conosco tanto tempo così dentro il campo, però anche fuori, abbiamo tanti ricordi insieme. Descrivilo con tre parole. Un gran amico. Quanti trofei hai vinto? Totale 11-12. Quello più speciale, quello che ricordi con più affetto? Il primo campionato. È stato il primo perché è stato difficilissimo. È un ricordo particolare legato a quel campionato? Il ricordo che ho è una riunione che abbiamo fatto tra di noi e abbiamo detto che dobbiamo lasciare tutto di noi, che erano solo noi giocatori, solo noi che eravamo lì dentro per fare veramente quello che abbiamo fatto. Quindi secondo me da quel momento lì abbiamo iniziato a fare il nostro meglio. Nomina altri tre che hanno raggiunto 300 presenze in bianco e nero. Quindi Gigi, Buffon, Keline e Bonucci. Quanti assist hai fatto? Più o meno di 30? Meno. Più di 30? Ho tanta roba. Qual è stato l'attaccante più difficile da affrontare? Douglas Costa quando era a Bayern di Monaco. C'è una partita che ricordi con particolare affetto? Che ha avuto un significato speciale per te? Che era il giorno che è stata morta la mia nonna. Quindi ho giocato con la partita lì, veramente stavo malissimo. Che ho fatto per le squadre e dopo anche ho fatto per la mia nonna. Abbiamo pareggiato con la partita. Vi ricordo che abbiamo avuto tante le critiche individualmente per le squadre. Perché non è sempre che i tifosi, i giornalisti, tutti quanti lo sanno quello che il giocatore o quello che stanno lì stanno passando al momento. Qual è il luogo di Torino che hai nel cuore? Quello in cui vai con più piacere? A me piace sempre andare nel parco della città. Ci sono tanti parchi belli. Quindi intanto prendo il mio cane e vado in giro. Ti hanno dato un soprannome in questi anni? Beh, il mio cognome è Lobo. Quindi l'italiano è Lupo. Intanto c'è Bonucci che mi chiama di Lobo. C'è Danilo che mi chiama di Indio. Perché il brasiliano è un indiano. Quindi io vengo delle famiglie indiane e così. Però a casa mia mi chiamano tutti di Alex. A parte te, chi è il brasiliano con più presenze nella storia della Juve? Danilo. Raccontaci cosa significa aver raggiunto 300 presenze in bianco-nero. Sinceramente è un onore grandissimo. Quindi arrivare a 300 partite per una squadra come la Juve è una cosa storica. È una cosa che si deve dare valore. Non solo in queste 300 partite, ma per tutti quelli che mi hanno aiutato a arrivare fino a qui. Perché non ho fatto da solo. È impossibile fare questi numeri da solo. Quindi ringrazio a tutti quelli che sono stati sempre vicino a me. Abbraccio a tutti. Grazie. 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 Grazie.